GoPro 7 Black con comandi vocale. Vediamo se funziona. GoPro, GoPro, accenditi. Accendi? Micchia, adesso aspettate che lo giro. GoPro, registra. Attiva video. Micchia, non mi ricordo i comandi. GoPro, registra video. È bellissimo. GoPro 7 Black è bellissima. Per noi pescatori è il top del top. GoPro, arresta video. Sì, no, non l'avete capito ragazzi cos'è questa cosa qua. Facciamo un po' pubblicità alla palestra perché ci vuole. Per chi non lo sapesse gestisce un club privato di box. Che riprese ragazzi, che riprese. GoPro arresta video. Ed ecco voi. Ritorniamo col mio artificiale preferito ragazzi. Aia. Il Mega Padulo. Abbiamo tolto tutto qua perché sennò si incavolano. Solo una Mino. GoPro arresta video. Ma che bello è il 4K. 4K? Vieni. Zoe. Vieni. Vieni. Su. Vieni. 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 Su. Vieni. 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 gopro arresta video niente con l'affondante a forma di pene non funziona adesso andiamo a provare con un galleggiante con un'esca galleggiante vediamo se riusciamo a tirare fuori qualche bassa enorme gopro arresta video gopro film arresta video a presto a presto gopro arresta video gopro avvia video tac preso gran pezzo come al solito un bel bass ah è andato via porca palletta vabbè a me così gopro arresta video un attimo c'è dato per finire il discorso un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo gopro arresta video un attimo 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 gopro arresta video durissima con la plumina e durissima sarà durissimo ma è un ferro atomico se riusciamo a abbannarlo così ok 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 Grazie. 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 GoPro arresta video. Non so se riuscite a vederlo ragazzi, però è proprio lì sotto. Chissà se riesco a venga a banarlo. Grazie. 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 Minchia. La mica è veramente imbarazza per prenderlo. Grazie. Questi sono che vedono, però potrebbero anche cascarci. Grazie. 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 non si è ecco gopro video gopro avvia video gopro avvia video gopro avvia video gopro video gopro spegni gopro avvia video blocca video arresta video gopro arresta video ed eccolo qua il bassettino e ce l'abbiamo panorama 4k carino e come al solito ragazzi iscrivetevi al canale campanellina like in basso a destra e come al solito un bassettino bella bocca via full timer pesca ciao ragazzi gopro arresta video con questo qua facciamo un sacco di mini mino ed ecco un altro mini ha è andato via migliore gopro arresta video no 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 Resta video Vediamo se riusciamo. Ho sbagliato, non tirato su sotto. Ho sbagliato, tirato in coppa. Secondo me, però, è decisamente addescante questo. Vediamo subito questo qua. No, infatti non l'ha cagata. Però, lo vedete voi? Io sì. Proprio là davanti. No. Gli rompiamo proprio i maroni. Vediamo che lo prenda. Niente. Niente, 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 niente. Però quelli là sono belli ingastriti. Che vengono a cazzo. E noi... Ho sbagliato il lancio. Che paletta. Questo c'è qua dentro il mega ciuppolo. Non c'è. Però ce n'è uno lì. Adesso si attacca. No. Ho già mangiato. Non vuole una cioppa. Vien là. Non vuole una cosa. O. Prendiamo il resto. Fatta. O. Prendiamo. Io ho ragazzo. Ero. Prendiamo ancora. Con整o il lancio. no palletta è di quella scherza troppo piccolo me l'ha evitato di brutta là però ce n'è un paio o là è discreto no GoPro la resta video che dire ragazzi è veramente una gran figata GoPro 7 black adatta per tutti quelli che devono avere le mani libere e ovviamente a noi pescatori un saluto da full timer pesca GoPro spegni che figata gopro arresta con i comandi non è che ci becca molto eh io GoPro arresta video io Grazie a tutti.